I resti del ponte Morandi di Genova, le pile 10 e 11, sono implosi questa mattina alle 9.37. Un'implosione controllata, secondo i tecnici, è avvenuto così come previste e senza intoppi, a parte qualche ritardo, dovuto a un residente della zona di evacuare che non aveva lasciato la propria abitazione. Alcune vasche piene d'acqua posizionate sopra i resti del ponte e dei cannoni hanno mitigato la polvere che si è sollevata dopo il sordo boato dovuto all'esplosione. Una leggera brezza di mare ha spostato e dissolto la polvere verso l'entroterra della Val Polcevera e una serie di centraline, sistemate appositamente nella zona, ha monitorato i livelli di polvere. A seguire questa delicata fase delle operazioni di demolizione del Morandi, c'era il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, il presidente della regione Giovanni Totti, il ministro dell'interno Matteo Salvini, il ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro della difesa Elisabetta Trenta. A dirigere le operazioni è stato Danilo Coppe, un esperto nell'impiego di esplosivi per questo tipo di operazioni. Il sindaco Marco Bucci ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con serietà e professionalità in questa difficile fase, mentre il vice premier Matteo Salvini si è detto assolutamente fiducioso sulla ricostruzione del nuovo ponte.